Il gruppo di Fratelli d'Italia annuncia il voto contrario alla fiducia a questo governo sulla manovra e oggettivamente non potrebbe essere diversamente, non credo che ci fosse molta suspense sul voto di Fratelli d'Italia, se il collega Marattin di Italia Viva fa la sua dichiarazione con scarso entusiasmo si figura il nostro. Quando è stato fatto questo governo ci è stato spiegato di fronte al fatto che per fare quel governo si facevano delle capriole al cospetto delle quali gli artisti del circo di Moira Orfei sarebbero impalliditi al cospetto del fatto che c'era qualche decina di migliaia di persone che manifestava qua fuori contro questo governo quando questo governo è stato fatto alle proteste nostre e di molti italiani si è risposto beh è la democrazia parlamentare bellezza, democrazia parlamentare significa che il Parlamento decide la democrazia parlamentare significa che il Parlamento è centrale e di grazia posso chiedervi dov'è la democrazia parlamentare nel momento in cui il Parlamento non può discutere la legge di bilancio che vi segnalo essere la prima prerogativa dei parlamenti dalla fine delle monarchie assolute e quindi più o meno dal XVII secolo perché se al Parlamento gli togliete la legge di bilancio vi comunico che la democrazia parlamentare non c'è e non c'è manco il Parlamento. E vorrei chiedere ai colleghi del PD che lo scorso anno andarono a fare ricorso alla consulta contro la contrazione dei tempi parlamentari. Adesso non conta più il Parlamento, adesso non conta più la Costituzione, che quando si arriva al Governo finalmente Costituzione e Parlamento non ci servono possiamo piegare le istituzioni al nostro piacimento, alle nostre necessità, noi non la vediamo così pensiamo che sia una vergogna quello che è accaduto con questa manovra, con un Senato della Repubblica è un maxi emendamento sul quale è stata apposta la fiducia perché il Governo doveva emendare se stesso con una Camera dei Deputati nella quale stiamo facendo diciamoci la verità colleghi una pantomima perché noi non abbiamo potuto dire nulla su questa legge di bilancio e lo sapevano tutti dall'inizio. E quindi francamente, insomma, dispiace. Anche perché, vede, probabilmente se si fosse discussa questa manovra è qualche buona idea, lo dico ai colleghi del Governo l'avevamo presentata. Fratelli Italia non ha avuto un atteggiamento ostruzionistico verso questa manovra, lo dimostra il fatto che abbiamo presentato la metà degli emendamenti che ha presentato il Partito Democratico, partito di maggioranza. Talmente buone proposte che in alcuni casi non si è proprio potuto dire di no. E lo rivendico, ne sono fiera, grazie a Fratelli d'Italia se oggi c'è un milione di euro in più sul fondo per gli orfani delle vittime di femminicidio. E grazie a Fratelli d'Italia se da domani chi viene raggiunto da una bolletta pazza dovrà essere risarcito quando dimostra di non dovere quei soldi. E grazie a Fratelli d'Italia se le mamme che hanno delle patologie per le quali non possono allattare avranno un bonus per poter comprare il latte in polvere. E grazie a proposte di buonsenso che abbiamo fatto. E però ne avevamo fatte tante altre. Tante altre che avrebbero difeso gli italiani se fossero state approvate dalla stangata che sta per abbattersi su di loro. Perché vedete l'altra cosa incredibile di questa manovra è che quando è nato questo governo ci è stato spiegato che il governo era necessario per il fatto che se non si fosse fatto sarebbero scattate le clausole di salvaguardia sull'IVA, le accise sui carburanti e compagnia e sarebbero aumentate le tasse. E quindi uno si aspetta che nel momento in cui questo governo viene fatto la manovra prevede non solo che non scattino le clausole di salvaguardia, che vengano abolite le clausole di salvaguardia, ma che le tasse non aumentano. È accaduto? No. No. Parliamo delle clausole delle accise sul carburante? Triplicate nel 2021, quadruplicate nel 2022, quintuplicate nel 2023. E sai che cosa significa quando le accise sul carburante aumentano così? Che aumenta il trasporto delle merci e quindi aumentano le merci per il consumatore. Si chiama IVA mascherata. L'IVA mascherata. Non te la faccio aumentare da una parte e te la metto dall'altra. Esattamente come rappresentano un IVA mascherata la tassa sulla plastica e la tassa sullo zucchero. Perché Presidente non ci prendiamo in giro. Lo dice il governo stesso. Quando calcola gli introiti della tassa sullo zucchero praticamente a consumo invariato, lo sanno tutti che sono tasse che non correggono i comportamenti. Lo sanno tutti che servono semplicemente a dare una copertura sensata al fatto che alla gente gli aumenti la pressione fiscale. Perché poi voglio chiedere al collega Maratin che dice che noi diciamo un sacco di stupidaggi. Collega Maratin, io non sono un genio della matematica, ma insomma con la calcolatrice ci arrivo a un calcolo. 32 miliardi è il costo della manovra, giusto? Ci sono 16 miliardi in deficit, giusto? Ci sono 3 miliardi e 3 di recupero dall'evasione fiscale. Lei dice che le tasse impegnano un miliardo di euro. Le comunico che mancano 12 miliardi all'appello. Avete fatto 12 miliardi di tagli alla spesa pubblica e allora se ci spiegate quali sono perché io non li prevedo. Oppure mi sa che le tasse aumenteranno un tantinello nel 2020 e nel 2021 e negli anni a seguire. Perché questo dicono i saldi, perché questo dicono i numeri. E infatti se ne sono inventate un po' tutte, no? I buoni pasto, le tasse sulle auto aziendali, i tabacchi, la tassa sulla fortuna. La tassa sulla fortuna dovrebbe pagarla il governo di miracolati che stanno al governo mentre la gente vorrebbe a casa. Pagatela voi la tassa sulla fortuna. Il resto dei soldi, dicevamo, si prendono in deficit. 16 miliardi di euro. Il resto dei soldi, dicevamo, 16 miliardi in deficit. E anche qui intanto corre sempre l'obbligo di ricordare che il deficit sono nuovo debito. Nuovo debito vuol dire nuovi interessi sul debito. Quindi sempre gli italiani pagano, eh? A stringere. Ma vabbè. Io non sono contrario al fatto che si possano spendere soldi in deficit. Però vede, quando noi spendiamo i soldi in deficit, ha detto Di Maio che non l'ha capito, ricordo quando lo scorso anno diceva, ci hanno sempre detto che i soldi non c'erano e invece li abbiamo trovati. Insomma, quando spendi i soldi in deficit è una cambiale. Vuol dire che i soldi non ci sono e ti stai indebitando per farteli prestare. Però io sono anche, diciamo, si possono spendere i soldi in deficit. Il punto è che quando si spendono i soldi in deficit si stanno indebitando i propri figli. Allora sono soldi che si possono spendere. Ma per qualcosa che rimanga ai nostri figli. Vuoi spendere i soldi in deficit? Va bene. Ma ci devi fare infrastrutture, crescita, messa in sicurezza del territorio. Qualcosa che rimanga per le generazioni a venire. Non si spendono 16 miliardi di soldi in deficit per pagare il reddito di cittadinanza ai brigatisti, agli spacciatori, ai nomadi e agli abusivi. Che è esattamente quello che fa questa manovra. Perché vi siete dimenticati di dire che ci sono 10 miliardi di euro tra il reddito di cittadinanza e marchette varie. Ci sono. Non spendi i soldi dei tuoi figli per fare cassa oggi. Cassa elettorale. Cassa elettorale. Perché diciamo, noi abbiamo avuto il coraggio di dirlo dall'inizio, ma dopo un anno che questo reddito di cittadinanza non funziona, ce lo vogliamo dire o non ce lo vogliamo dire. Ce lo vogliamo dire che non è servito ad aiutare chi non poteva lavorare, ma chi non voleva lavorare onestamente nella maggior parte dei casi. Perché certo che siamo favorevoli ad aiutare chi non può lavorare, ma uno Stato giusto non mette sullo stesso livello dell'assistenzialismo chi può lavorare e chi non può farlo. Perché finisce per discriminare il più debole. E questo è quello che c'è in questa manovra di bilancio. Poi, ovviamente, il terzo pilastro di questa manovra è la presunta lotta all'evasione fiscale. Dico presunta perché ancora una volta noi abbiamo uno Stato che finge di combattere l'evasione, ma in realtà fa caccia al gettito. Ancora una volta noi abbiamo uno Stato che fa il debole con i forti e il forte con i deboli. Ancora una volta noi abbiamo uno Stato che se la prende con gli scontrini dei bar quando la vera evasione fiscale sta da tutt'altra parte e tutti fanno finta di niente. Vogliamo dircelo dove sta l'evasione fiscale? Frodi Carosello, 28 miliardi di euro l'anno, non c'è niente in questa manovra. La vergogna delle multinazionali che ti spostano la sede legale fuori dai confini nazionali, altri quasi 30 miliardi di euro, non c'è niente. Vogliamo parlare della web tax al 3%, 3%? Ah gli facciamo pagare 3%? Che al primo ricorso oltretutto quella roba lì salta? L'ha fatta Fratelli d'Italia una proposta giusta su questo tema, era il principio dell'imposta di bollo, ti tasso sul numero degli accessi che hai, ma certo che non ci andiamo a pestare i piedi ai grandi colossi del web. No, lì stiamo zitti, vogliamo parlare degli extracomunitari, dei cinesi che aprono e chiudono centinaia di imprese senza versare un euro allo Stato italiano? Noi l'abbiamo fatta anche qui una proposta, che ci vuole? Un deposito cauzionale per gli extracomunitari che vogliono aprire qui, non devi pagare di più ma voglio avere la garanzia che paghi, bocciato, perché c'è un caso in cui anche per la sinistra vale il prima gli italiani, quando si pagano le tasse, per tutto il resto gli italiani arrivano dopo. E' certo che una manovra del genere, Presidente Figo, non poteva che essere fatta dal governo più a sinistra della storia della Repubblica. Ormai avete tutti questa cosa fantastica e fantassiosa e concludo di dare alle leggi dei nomi, ecco questa la potete chiamare manovra bandiera rossa. Così potete anche giustificare la vergogna di 400 mila euro spesi per celebrare la nascita del Partito Comunista italiano. Una cosa scandalosa, fatta dalla stessa maggioranza che boccia la richiesta di Fratelli d'Italia di istituire un fondo per aiutare e risarcire le famiglie rispetto alle quali fosse dimostrato che sono stati indebitamente sottratti dei bambini a Bibiano come nel resto d'Italia. Di quello vi vergognate? Di celebrare il centenario del Partito Comunista invece quello? Siete contenti? Beh non è la nostra manovra e noi non la voteremo. E facciamo un appello agli imprenditori, ai professionisti, ai lavoratori, a chi vuole lavorare e non vuole una paghetta di Stato. tenete duro, sta per arrivare un governo che gli darà all'Italia la voglia di pensare in grande. Grazie. Grazie Presidente. Dunque Presidente Draghi, mi permetta con franchezza di dirle che pensavamo di avere già visto tutto in questi giorni con lo spettacolo francamente desolante andato in scena durante la stesura della risoluzione di maggioranza in tema di invasione russa dell'Ucraina. E però purtroppo da ieri noi siamo andati oltre la desolazione con il principale gruppo politico che sostiene la sua maggioranza che di fatto consuma il suo Arachiri e il Ministro degli Esteri che denuncia di essere stato messo in discussione proprio sul posizionamento internazionale dell'Italia. Certo questo dimostra quanto Fratelli d'Italia avesse ragione quando tentava di spiegare che un governo che ha la pretesa di mettere insieme tutto e il contrario di tutto non può produrre nulla di buono. E certo siamo oggi più fieri di ieri di trovarci all'opposizione di un governo privo di visione e privo di identità anche di fronte alle grandi sfide della storia. Però non ci rallegra Presidente Draghi perché vede lo spettacolo francamente terribile al quale il mondo assiste non coinvolge solamente voi, coinvolge l'Italia, la sua credibilità, il suo standing e lo fa proprio nel momento in cui con Macron Presidente di minoranza e Scholz sempre più titubante l'Italia avrebbe l'occasione storica di giocare un ruolo da protagonista sullo scacchiere internazionale. Invece lei si presenterà al Consiglio europeo, mi dispiace, con una risoluzione che è di fatto il manuale Cencelli applicato alla geopolitica. C'è qualcosa per tutti, qualcosa per i finti pacifisti, qualcosa per i nostalgici dell'Unione sovietica, qualcosa per i filoamericani, qualcosa per gli adepti di Bruxelles. Tutto rigorosamente scritto in maniera tale che ciascuno possa rivendicare di averla spuntata e quindi inevitabilmente con una risoluzione che, mi dispiace, non chiarisce bene la posizione dell'Italia. E io penso che questa sia anche la ragione per la quale voi date parere contrario alla risoluzione proposta da Fratelli d'Italia, che invece contiene una posizione chiara e inequivocabile. Perché volete rimanere ambigui? Ma io penso che questo non sia il tempo dell'ambiguità. Io penso che questo sia il tempo in cui una nazione come la nostra fa le scelte necessarie a difendere i suoi interessi nazionali. E quelle scelte partono dal tema della serietà. Questo è il momento in cui si distinguono, Presidente Draghi, i leader dai follower. Cioè quelli che hanno il coraggio di indicare una rotta alla nazione, da quelli invece che pensano che si possa fare facile cassa elettorale sulla pelle della nazione. E allora, vede, chiunque abbia banali cenni di geopolitica, chiunque abbia banali cenni di geopolitica non ha alcuna difficoltà a capire quale debba essere il posizionamento italiano. Chiaro. A sostegno della causa ucraina, con i propri stolici alleati, senza tentennamenti, per poter anche con maggiore forza rivendicare quello che all'Italia è necessario per affrontare la tempesta. L'Italia semplicemente non può permettersi di essere l'anello debole dell'Occidente, cioè del sistema di alleanze commerciali, di difesa, economiche, del quale fa parte da sempre. Questa è storicamente la posizione di Fratelli d'Italia, con buona pace degli osservatori spesso un po' distratti, e cioè un'Italia che stia a pieno titolo dell'Occidente, che vuol dire starci con lealtà per starci a testa alta, per starci da protagonisti e non da servi. È per esempio la ragione per la quale noi sosteniamo da vario tempo la necessità che la Nato si doti di una colonna europea capace di parlare da pari grado con la colonna americana, il che però significa anche investire di più sulla difesa. Perché, signore, scusate, ma non è che noi possiamo continuare a piagnucolare sull'ingerenza americana nella Nato quando non vogliamo assumerci il peso della nostra indipendenza. La libertà ha un costo. Se non sei disposto a pagare quel prezzo, non sarai mai completamente libero. Sono tesi che sosteniamo da sempre. Però il punto che io vorrei organizzare in questo intervento, Presidente Fico, è un altro, e cioè se anche noi fossimo così cinici, lo dico a beneficio di chi, insomma, tra le ricche dice anche questo, no, da riuscire a girarci dall'altra parte rispetto alle immagini atroci che ci arrivano dall'Ucraina, temo che dovremmo comunque fare i conti con alcune questioni non eludibili che ci coinvolgono direttamente. Cioè dove sta il nostro interesse in questa vicenda? Io penso che alcune cose si possano dire. Punto primo. Con l'invasione Ucraina la Russia rivendica un mondo nel quale lo Stato militarmente più forte ha soggetto altri Stati anche per assumerne chiaramente il controllo delle ricchezze e delle materie prime. È il mondo che vogliamo? Ma dico di più, ce lo possiamo permettere? Cioè noi ci possiamo permettere che non sia più il diritto internazionale a vigere ma la legge del più forte di chi ha più carri armati? Signori, pallottolieri alla mano, temo che non ce lo possiamo permettere. Punto secondo. I carri armati russi entrano in Ucraina con la bandiera rossa con la falce e il martello rivendicando i confini dell'ex Unione Sovietica. Lo stesso Putin parla di confini storici della Russia e questo significa non solo Ucraina, significa Moldavia, significa Georgia, significa paesi baltici, significa porzioni di Polonia, significa porzioni di Finlandia, il che significa che quelli che sostengono che se gli ucraini si arrendono noi abbiamo risolto il problema sono degli ingenui a confronto dei quali Alice nel Paese delle Meraviglie e Ottone di Bismarck. È vero esattamente il contrario. Se l'Ucraina capitolasse e facilmente la guerra probabilmente dilagherebbe in mezzo a Europa e non solo, forse fuori anche dai confini europei, forse altri raccoglierebbero la debolezza occidentale. Come cominciamo a vedere, per esempio, con una Cina che si fa sempre più minacciosa verso Taiwan. Per cui ci piaccia o no, signori, le cose vanno detto come stanno, noi siamo all'interno di un conflitto che è molto più ampio della vicenda ucraina e che ha come obiettivo la revisione degli assetti mondiali. Questo è il tema del quale bisogna parlare con chiarezza, anche per spiegare agli italiani che cosa stiamo facendo. Se la Russia vincesse, il vero vincitore non sarebbe tanto la Russia quanto la Cina di Xi Jinping. Se l'Occidente capitola, a farne il prezzo più alto sarà chi è più debole, più esposto in Occidente, cioè noi europei, che probabilmente finiremmo sotto la sfera di influenza cinese. Credo che siano materie che vanno argomentate. Quindi, piaccia o no, la guerra che stanno combattendo gli ucraini riguarda direttamente anche noi. E quindi la realtà, diciamo, è difficile da accettare, ma non si può eludere. È la ragione per la quale l'Italia deve difendere l'Ucraina. Ed è la ragione per la quale deve difendere l'Ucraina chi vuole la pace. Perché è facile, signori, da che mondo è mondo la base della diplomazia, cioè della disponibilità al dialogo e che ci sia sostanzialmente un equilibrio tra le parti in campo, altrimenti a che cosa serve la diplomazia se c'è uno che può vincere e l'altro che ha già perso. Quindi comunico ufficialmente che chi vuole la pace dovrebbe aiutare il popolo ucraino nella speranza che si arrivi a uno stallo che consenta di aprire le trattative. La seconda cosa che voglio dire, Presidente, è questa. Ma se anche l'Italia non fosse direttamente coinvolta come io ho tentato in questi pochi minuti di spiegare, cioè questa discussione avrebbe un senso comunque, nel senso, parliamoci chiaro. Voi pensate che noi decidiamo il destino della guerra in Ucraina? Noi Italia? Beh, temo di no. Cioè, se domani l'Italia decidesse vergognosamente di sfilarsi al fronte occidentale, non cambierebbe molto, eh? Il resto dell'Occidente continuerebbe a sostenere gli ucraini. Solo che noi avremmo totalmente compromesso qualsiasi credibilità e ci ritroveremmo ad aver confermato l'eterno stereotipo dell'Italia spaghetti e mandolino. E lo pagheremmo, signori. Lo pagheremmo in termini di rapporti con gli alleati, lo pagheremmo in termini di sicurezza. Vado verso la conclusione, Presidente, mi dia un minuto. Lo pagheremmo in termini di sicurezza perché domani, se avessimo bisogno, nessuno si sentirebbe più, diciamo, nella necessità di doverci difendere, per esempio sul fronte mediterraneo e lo pagheremmo in termini economici e commerciali. Perché la nostra, diciamo, quantità di esportazioni con la Russia viaggia intorno all'1,5%, mentre l'Occidente e Cuba all'80%. E allora non è il tempo di stare lì a fare cassa o a fare titubanza, è il tempo di dire da che parte sta l'Italia e di chiedere in cambio quello che all'Italia serve, perché questo sì, solidarietà diamo e solidarietà pretendiamo. In questa guerra non ci può essere chi paga e chi ci guadagna. Per questo, per primi, abbiamo chiesto un fondo di compensazione per le nazioni più colpite dalle sanzioni. Per questo mi aspetto che il Presidente Draghi, con ancora maggiore forza, ponga alcune questioni al Consiglio europeo, che sono il tema del tetto al prezzo del gas, che è il tema, chiaramente, alimentare, ma che è anche il tema, Presidente Draghi. Lei questo lo capisce bene, ma noi ci possiamo permettere le dichiarazioni che ha fatto la Presidente della Banca Centrale, Christine Lagarde, in giorni come questi? Ma ce lo possiamo permettere? Allora, concludo, Presidente. Concludo dicendo questo. Noi non siamo nella condizione di votare la risoluzione della maggioranza e chiaramente non ci illudiamo che loro votino la nostra, però sarà molto più difficile ottenere le cose che ci servono se ci si va con una posizione debole. Sarà ancora molto più difficile, per cui noi abbiamo depositato una risoluzione che offre una posizione chiara per rafforzare l'Italia nel contesto internazionale. Non la voterete, per carità, però almeno gli italiani sapranno ancora una volta cosa avrebbe fatto un Governo forte, libero e senza condizionamenti a ribasso come questi devastanti di queste maggioranze. Presidente Conte, io starò al tema perché quando Fratelli d'Italia ha chiesto questa informativa lo ha fatto in vista del Consiglio europeo. Quindi non parlerò in questa sede di molte delle cose delle quali pure lei ha parlato, che riguardano la fase 2 e la ripartenza. Mi permetto semplicemente un inciso perché, vede, quando la sento dire in questo Parlamento che lei è consapevole della necessità di coinvolgerci e che è ancora aperto e disponibile al dialogo con le opposizioni, mi dico che, insomma, lo può raccontare a chi la guarda da casa. Ma noi siamo il Parlamento, noi siamo le opposizioni e quindi siamo consapevoli del fatto che quello che lei dichiara non corrisponde ai suoi atti, Presidente Conte. Altrimenti lei dovrebbe spiegare agli italiani la ragione per la quale sul decreto Cura Italia avete apposto il voto di fiducia facendo decadere tutte le proposte dell'opposizione, anche quando avevamo lasciato agli atti i 20 emendamenti sui quali vi abbiamo chiesto di darci delle risposte. Altrimenti lei dovrebbe spiegare agli italiani la ragione per la quale avete bocciato delle proposte di Fratelli d'Italia così di buonsenso che poi le avete prese e le avete messe quasi identiche nel mazio emendamento facendo finta che fossero proposte vostre. Forse dovrebbe spiegare questo. Forse dovrebbe spiegare agli italiani la ragione per la quale mancano dieci giorni a maggio e noi siamo ancora che non abbiamo neanche una riga sul decreto d'aprile e anche oggi lei viene qui e ci dice vi chiederemo di votare un altro scostamento di bilancio che ricordiamo abbiamo votato, ma non ci dice neanche di quanto, ce lo farete sapere, giusto Presidente Conte? Allora sa, insomma a noi non lo può raccontare anche su questo appuntamento, anche su questo appuntamento. Presidente Conte che le piaccia o no, che ci piaccia o no, il Consiglio europeo al quale lei partecipa giovedì è un momento di portata storica. Possiamo sapere la ragione per la quale lei si accinge a fare una trattativa che può cambiare il destino dell'Italia e dell'Europa e non sente il dovere di chiedere un mandato chiaro a questo Parlamento? Come è possibile? Ci viene a parlare di tante proposte che ha fatto ai colleghi europei, ne siamo fieri, ma ci può dire con chi le ha concordate, perché in questo Parlamento delle lettere che lei ha scritto e delle proposte che ha fatto agli altri paesi europei non abbiamo alcuna contezza e questo è il Parlamento della Repubblica che lei rappresenta, che a forza di frequentare i cinesi si è convinto di avere gli stessi poteri di Xi Jinping, Presidente Conte. Scusi, ma davvero è incredibile che lei non ritenga di far esprimere il Parlamento. E non vi nascondete dietro i cavilli tecnicismi. Lei lo sa bene la ragione per la quale noi oggi non votiamo. Noi oggi non votiamo perché se oggi noi avessimo votato sarebbero emerse le enormi contraddizioni che ci sono all'interno della vostra maggioranza. Probabilmente lei avrebbe avuto un mandato chiaro da questo Parlamento. Probabilmente la maggioranza di questo Parlamento le avrebbe detto no al MES, in ogni forma, no al documento sul quale c'è l'ok del suo Ministro dell'Economia. E certo, quel mandato chiaro del Parlamento, Fratelli d'Italia, avrebbe votato un documento sì fatto. Quel mandato chiaro del Parlamento l'avrebbe resa più forte nel tavolo europeo, ma più debole in patria, perché ovviamente la sua maggioranza si sarebbe frantumata. E allora lei è andato in televisione a dire agli italiani, con questo piglio deciso, che siamo trasparenti. Poi però evita un chiaro voto parlamentare alla luce del sole e preferisce sì lavorare con il favore delle tenebre. E allora non ce le faccia, Presidente Conte, le elezioni in televisione, perché nella vita bisogna essere coerenti. Allora, vede, questo fa ritenere purtroppo che alla fine prevarrà la linea del Partito Democratico, anche stavolta. Quel Partito Democratico che dall'inizio tira i fili di questo Governo. E purtroppo questo significa anche che la daremo vinta alle consorterie europee, che a loro volta tirano i fili del Partito Democratico da qualche tempo. Allora, vede, io non sono ottimista. Non sono ottimista soprattutto dopo averla sentita a quest'Aula. Prendo atto che la posizione del Governo è mutata dall'iniziale non mess, sia Eurobond, all'attuale MES vediamo, Eurobond speriamo, che è una posizione un tantino diversa. Prendo atto anche della dichiarazione del collega dei Cinque Stelle, che di fatto dice va bene il MES senza condizionalità. Poi dopo parleremo delle condizionalità. Al Senato ho sentito dire cose straordinarie alla geniale proposta che adesso il Partito Democratico è cambiare nome al MES per farla digerire ai Cinque Stelle. Lo chiameranno FES per rendere ancora più chiara l'idea che hanno del loro alleato di Governo. Però gli italiani FES non sono e quindi è difficile che li prendiamo in giro. Allora, vede, il problema qual è? Il problema è che lei purtroppo si presenta a questo appuntamento da capo di un Governo litigioso, debole e, devo dire, incapace di dare delle risposte, ma non lo voglio dire perché sono dell'opposizione e devo dire che siete incapaci di dare delle risposte. Lo dico perché lo dite voi. Lo dite voi ogni giorno nel momento in cui abdicate alle vostre funzioni e consegnate le vostre funzioni a pletore di esperti e di task force. Presidente Conte, il vostro Governo ha 65 persone, tra Ministri e sottosegretari, i quali a loro volta hanno numerosi e super pagati staff. La Presidenza del Consiglio dei Ministri spende ogni anno più di 300 milioni di euro per il suo funzionamento. Si è mai chiesto a cosa serva tutto questo? Serve a governare, Presidente Conte. Serve a dare le risposte ai problemi degli italiani, mentre voi decidete di abdicare a quelle competenze che sono vostre e di darle in mano a queste task force, probabilmente perché non vi ritenete all'altezza del compito o forse perché siete in altre faccende affacendati. È tipo stare per giorni e giorni chiusi dentro una stanza a spartirvi le poltrone delle partecipate statali. Perché scusi, Presidente Conte, ma è davvero incredibile. Questo lo dobbiamo denunciare al cospetto degli italiani. Avete esautorato il Parlamento, avete rinviato le elezioni, avete sospeso le libertà personali, state tracciando la vita ai movimenti delle persone. In Italia non si può fare più niente perché c'è l'emergenza e nulla sarà come prima, però la spartizione partitocratica delle poltrone quella identica prima. Non c'è differenza. E forse qualcuno dovrebbe dire ai colleghi del Movimento 5 Stelle, signori, quando promettevate di aprire il palazzo come una scatoletta di tonno dovevate specificare che era per abboffarvici con quel tonno. Sarebbe stato più serio. Allora, vedete, io penso che questo Governo abbia delle difficoltà rispetto alla possibilità di essere all'altezza della sfida con la quale ci confrontiamo. E guardi, Presidente Conte, comprendo umanamente il tentativo di dire che siamo deboli, che il Governo è debole sul tavolo europeo per colpa dell'opposizione. Però è una tesi fragile. Quello che lei ha detto in televisione non mi faccia quella faccia, l'ha detto lei la settimana scorsa, che noi indeboliamo la trattativa. Però è una tesi fragile. Penso che alla fine se ne renda conto anche lei. Anzi, guardi, la durezza delle opposizioni su un tavolo internazionale è una bella carta da usare per un Governo. Lei può sempre andare in Europa e può dire guardate, signori, mi dispiace, io questa roba non la posso firmare perché in Italia non ho solo il PD che dice che Parigi è la capitale d'Italia, non ho solo il Movimento 5 Stelle che è fiero di aver eletto con i suoi voti determinanti Ursula von der Leyen. In Italia ho anche quei patrioti di Fratelli d'Italia che se io torno con un accordo non vantaggioso mi scatenano l'inferno e quindi non la posso firmare questa roba qui. Le abbiamo dato una sponda, Presidente Conte. Certo, le abbiamo dato una sponda se lei vuole andare fino in fondo, certo, se intende essere coerente. Se invece lei pensa di cedere, beh, sì, allora noi rappresentiamo un problema. Noi rappresentiamo un problema. Perché, vede, Presidente, noi non siamo nella posizione di cedere. L'Italia non è nella posizione di cedere, banalmente perché non ce lo possiamo permettere. Noi siamo di fronte a un baratro e lei sa bene come me che la situazione è più difficile di quella che stiamo immaginando, sarà più difficile di quella che stiamo immaginando. Lei sa meglio di me che l'Italia rischia la desertificazione del suo sistema economico e produttivo. Sa meglio di me che rischia un'ecatombe occupazionale di dimensioni e di proporzioni inimmaginabili. E sa meglio di me, lo sapete tutti in quest'Aula, che di fronte a questo dramma, l'Europa ancora una volta, non so che film abbia visto il collega Del Rio, ma non è lo stesso film che sto guardando io, è stata purtroppo inadeguata. Tutti vedono oggi quello che noi denunciamo da qualche anno. Un'Europa che entra nella tua vita e definisce ogni singolo cavillo, ma che poi sulle grandi questioni del nostro tempo non sa mai essere all'altezza. Un'Europa inutile di fronte alla crisi economica, inutile di fronte alle crisi geopolitiche, inutile di fronte all'ondata migratoria, inutile anche di fronte alla pandemia. Noi sognavamo una grande Europa politica e ci siamo ritrovati con un enorme banco dei pegni al quale possiamo andare a chiedere i soldi quando siamo in difficoltà, chiaramente dando in cambio i nostri gioielli di famiglia. È qualcosa di molto diverso da quello che sognavamo e da quello che volevamo. E allora lo dimostra anche l'ultimo pacchetto. Anche qui io non sono d'accordo che questo pacchetto parato dall'Europa sia un grande pacchetto. Le risorse della BEI sono assolutamente insufficienti su non solo 200 miliardi, sono 200 miliardi di risorse generate. Per intenderci, lei sostiene con il decreto di liquidità che ne tira fuori 400 da solo, si figuri quanto contano i 200 della BEI per tutta l'Europa. Per accedere alla SURE per la cassa integrazione bisogna versare miliardi di carenzie. E poi c'è questo famoso mess senza condizionalità che è un cavallo di troica. Allora a me fa sorridere che, sentito anche oggi, ma ci vogliono dare 36 miliardi e che non ce li prendiamo? Sembra quasi che ce li stiano regalando. Ma qualcuno lo può spiegare agli italiani che non ce li stanno regalando 36 miliardi? ce li stanno semmai prestando. Cioè noi abbiamo dato 15 miliardi a un fondo che oggi ci vuole prestare 36 miliardi che dovremo restituire tutti e 36 pagando sopra gli interessi sui soldi nostri che ci prestano. A che affarone! Wow! Ma complimenti! Ma veramente è una cosa straordinaria! Ma è un grande affare! E scusate, i prestiti non sono mai senza condizionalità. Sono prestiti. Hanno delle condizioni. E infatti ce l'ha anche questo. Perché che ti dicono? Ti dicono che se tu i soldi non li restituisci nei tempi e nei modi in cui li devi restituire ti entra la troica dentro casa. Il direttore del MES si spinge avanti e dice che le condizionalità light valgono per un anno, che vuol dire che ti attirano tipo trappola per topi e poi tra un anno ti scatta la tagliola, eccetera, eccetera, eccetera. Allora vedete, chi dice che il MES light è una grande occasione per l'Italia? Lavora contro l'Italia. E noi con chiarezza vogliamo dire di no. Noi pensiamo che le soluzioni siano altre. Noi pensiamo che tra l'altro la posizione dell'Italia sia una posizione di forza in questo momento. Presidente Conte non se lo dimentichi, tutti capiscono in Europa che l'Europa non può fare a meno dell'Italia. Perché senza Italia e senza Gran Bretagna l'Europa è una grande Germania, è una grande Germania, schiaccia anche la Francia. Quindi noi siamo in una posizione di forza adesso. Tutti sanno che alla fine l'Italia deve essere accontentata, ne approfitti. Lei può portare a casa il recovery fund da almeno mille miliardi, al mio punto di vista, ha pagato con gli euro bond. Io penso che la sfida italiana debba essere ancora ulteriore. Io penso che la grande sfida italiana sia nella Banca Centrale Europea. Presidente Conte, lei deve pretendere che la Banca Centrale Europea faccia quello che fanno le altre banche centrali in tutto il mondo, comprare illimitatamente titoli di Stato. La proposta che io le voglio formulare, se il collega Fia... Ragazzi! Deputato Fiano, deputato Orlando, deputato De Luca. Io penso che l'Italia dovrebbe emettere i cosiddetti bot patriottici proposti da Giulio Tremonti, cioè bot titoli di Stato a lunghissima scadenza, almeno cinquantennale, basso rendimento, non tassati, non tassabili, ovviamente circolabili, e che dovrebbe pretendere dalla Banca Centrale Europea che tutti i titoli di Stato, tutti i bot patriottici che non vengono piazzati sul mercato, vengono automaticamente comprati dalla Banca Centrale Europea. Questa dovrebbe essere la linea del piave italiana nella trattativa del Consiglio Europeo. E noi avremmo formalizzato queste proposte se qualcuno ci avesse consentito di votarle all'interno di quest'Aula. Signori, allora questo vorremmo che lei facesse al Consiglio Europeo, Presidente Conte. E concludo, Presidente Fico, vado alla conclusione. Noi vorremmo che facesse questo e vorremmo che ricordasse in Europa che noi non chiediamo le lemosine a nessuno. L'Italia non chiede aiuti a nessuno. L'Italia chiede semplicemente di avere indietro quello che le appartiene. L'Europa esiste grazie a noi. Noi versiamo 100 miliardi di euro ogni sette anni all'Unione Europea. Ce ne torna indietro solamente una parte piena di vincoli. La Banca Centrale Europea esiste grazie a noi. Intere nazioni si sono arricchite in questi anni sulla nostre spalle e il nostro lavoro. E la prima è la Germania, che ha una moneta unica costruita intorno ai suoi interessi, e la seconda è l'Olanda, con un paradiso fiscale che drena risorse a tutti i Paesi membri. Dica in Europa che non ne possiamo più della storiella delle scicale e delle formiche, perché non so se noi siamo delle scicale, ma loro sicuramente non sono delle formiche, sono semmai delle sanguisughe che si sono gonfiate in questi anni con il nostro sangue e il nostro lavoro. Vada a dire questo. Vada a dire che l'Europa non aspetti solidarietà dall'Italia, quando le cose andranno meglio se non sa dare oggi solidarietà all'Italia mentre siamo nella tempesta. Abbia il coraggio di fare questo e ci troverà al suo fianco. Grazie. Grazie. Presidente Conte, nell'ora più incerta a sempre più italiani, pare che questo Governo non ci stia capendo molto. E non perché lo denunciamo noi, ma perché lo confessate voi, nel momento stesso in cui sfornate tre di PCM in dodici giorni. L'Italia rischia di ritrovarsi in una situazione peggiore di quella che abbiamo affrontato a marzo. E vede, io lo considero imperdonabile francamente, perché in questi mesi il vostro Governo ha avuto poteri mai visti nella storia repubblicana e risorse mai viste nella storia d'Italia. Avete avuto tutto quello di cui c'era bisogno per fare del vostro meglio, compresa la possibilità di scavalcare sistematicamente il Parlamento della Repubblica Italiana, come state facendo anche oggi. Non ci sono scuse per quello che sta accadendo. Noi continuiamo a parlare di emergenza, signori, ma emergenza significa situazione imprevista. E questa non solo non era imprevista, ma era addirittura stata annunciata. Quindi noi non siamo di fronte a un'emergenza. Noi semmai siamo di fronte a una calamità, il Covid, sulla quale impatta un'altra calamità, che è l'inconcludenza che avete avuto in questi mesi. Mi dispiace. E perché non siamo preparati ad affrontare questa seconda ondata? E non siamo preparati, Presidente Conte, perché nonostante tutto questo, negli ultimi mesi voi siete stati in altre faccende affaccendati. E guardi, glielo dimostro con i fatti. E le dimostro anche la nostra serietà, il tentativo di dare una mano a cospetto della vostra ignavia. Prendiamo un mese a caso. Di che cosa vi siete occupati nel mese di agosto? Glielo faccio vedere. Primo agosto, accordo sul decreto sicurezza. Nello stesso giorno Fratelli d'Italia denunciava l'ennesima fuga di migranti da un centro d'accoglienza in violazione della quarantena e chiedeva al Governo se fosse normale rischiare di rendere vani gli sacrifici che gli italiani avevano fatto per la vostra furia immigrazionista. Perché, vede, vi siete vantati, giustamente, del fatto che l'Italia era riuscita a contenere il contagio che invece continuava a galoppare in Europa. Ma allora, scusate, perché non avete fatto nulla per impedire il contagio di ritorno? Perché non avete fatto nulla per un controllo a tappeto di chiunque entrava in Italia? Fossero italiani, fossero turisti, fossero immigrati regolari. Perché non abbiamo fermato l'immigrazione clandestina? No. Noi stavamo lì a parlare di come favorirla. Ma posso andare avanti. 4 agosto, nel decreto sulla pandemia alla proroga dei vertici degli 007. Presidente. Uno dei tanti esempi che si potrebbero fare di come la pandemia è stata utilizzata per fare un'informata di nomine e di poltrone come avete fatto in questi mesi. Nello stesso giorno, invece, noi irresponsabili chiedevamo conto al Presidente Zingaretti di dove fossero finite le mascherine che aveva profumatamente pagato con 12 milioni di euro e che non sono mai state consegnate ai cittadini. E chiedevamo conto allo sceriffo di Nottingham, Vincenzo De Luca, di dove fosse l'ospedale Covid che aveva promesso ai campani. Ci occupavamo di queste cose. Posso andare avanti, guardi, perché di esempi ce ne sono moltissimi. 27 agosto, legge elettorale entro l'estate. E nello stesso giorno, Fratelli d'Italia denunciava quanto fosse pazzesco che il Governo aveva risolto il problema del distanziamento degli studenti sui mezzi pubblici, stabilendo il principio che gli studenti erano congiunti. Come se il Covid si potesse fermare con i giochi di parole. 28 agosto, la Cirinna tuona. A settembre non daremo tregua sulla legge contro l'omofobia. Ma siete sicuri che gli omosessuali di questa nazione non avrebbero voluto vedervi al lavoro per difendere le loro attività, piuttosto che su questa roba qui? Siete sicuri? Lo stesso giorno noi proponevamo un'assistenza sanitaria speciale per gli anziani che lavorano all'interno delle scuole. Questi sono i fatti, signori. E la storia ve ne chiede racconto e vi chiede racconto anche della ragione per la quale non avete neanche voluto ascoltare. Chi bene o male, anche dall'opposizione, tentava di fare la sua parte, non per dare una mano a questo Governo che prima va a casa e meglio è, ma per dare una mano alla Nazione. Noi eravate troppo impegnati a darci dei negazionisti, però anche qui lo dico anche al collega che è intervenuto prima. Guardi che gli unici negazionisti li abbiamo issi al Governo. Zingaretti diceva che non ce n'è Covid a Milano e giù aperitivi quando noi chiedevamo di fare la quarantena per chi rientrava dalla Cina. Il ministro Lamorgese ci dice che non ce n'è Covid sui barconi, sfidando la scienza e anche l'intelligenza degli italiani. Il ministro Azzolina ci ha detto che non ce n'è Covid nelle scuole. Forse ritiene che siano sicure perché magari gli studenti possono scappare più facilmente dal virus, visto che hanno i banchi a rotelle, ma lei capisce che la serietà è un'altra cosa. E invece noi proponevamo i termoscanner, le tensostrutture per allargare gli spazi, il coinvolgimento del privato, la scorrere le graduatorie per coprire le carenze di organico. Il ministro De Micheli ancora due giorni fa ci dice che non ce n'è Covid sui mezzi pubblici. E io voglio sapere qual è l'evidenza scientifica con la quale si fa una dichiarazione del genere, Presidente Conte. Perché è intollerabile questa bugiarda irresponsabilità. E invece noi abbiamo proposto l'utilizzo dei pullman privati, i taxi collettivi, gli NCC, le sanificazioni che non avete mai fatto. E via discorrendo. Il ministro Speranza ci ha spiegato come non c'era più Covid in un libro che poi ha dovuto far sparire. E probabilmente anche Arcuri ha pensato che di Covid non ce ne sarebbe stato più, visto che le regioni hanno mandato al Governo le necessità che avevano per potenziare la sanità a luglio. E lui ha attivato i bandi a ottobre, quando il virus era già ripartito. Mi dispiace, signori, ma questi sono i fatti. Che cosa fare ora? Anche qui, guardi, noi pure in punta di piedi non siamo virologi, non ci confrontiamo col CTS. Abbiamo ruota a fare qualche proposta che ci pare di buon senso. Una gestione sensata e veloce dei tamponi. Consentire anche alle farmacie di poter fare i test. Una sanità dedicata perché non si muore solo di Covid. Il nostro modello rimane quello dell'ospedale Fiera di Milano. Che la maggioranza e la stampa di regime hanno deriso e attaccato. Collega Ricciardi, ancora aspetto le sue scuse. Oggi tutti vorrebbero avere quello che c'è in Lombardia. E poi scusate, anche qui lo dico in punta di piedi, ma se l'Istituto Superiore di Sanità dice che la media dei decessi è di persone che hanno 80 anni con più di tre patologie pregresse. Perché nessuno ha pensato ad aiutare quegli anziani e quelle categorie a rischio a uscire di casa il meno possibile con un'assistenza domiciliare a tappeto. Che senso ha che noi chiudiamo le palestre ai ventenni e poi imponiamo a una donna di 85 anni di stiparsi sull'autobus insieme a altre 85 persone per andare a fare il vaccino anti-influenzale. Non capisco, non è sensato e qualcuno ci spiegherà che non è sensato, però spiegateci perché una volta tardi. Colleghi, colleghi, colleghi per favore. No, purtroppo temo che queste risposte non arriveranno neanche oggi perché si fanno appelli all'unità in favore di telecamera, ma poi di unità ne abbiamo vista poca. Abbiamo visto piuttosto la voglia di scaricare le responsabilità. Si scaricano le responsabilità sulle regioni facendo finta di non sapere che l'articolo 117,2 lettera Q della Costituzione italiana dice che la profilassi internazionale è competenza dello Stato, quindi vostra. Si scarica sui comuni facendo finta di non sapere che non hanno gli strumenti per far rispettare le prescrizioni. Si scarica sui ristoratori, sui commercianti, sugli italiani. È sempre colpa di qualcun altro, Presidente Conte. Solo vostra non è mai, solo che voi siete quelli che decidono e quindi qualcosa non torna. L'ho sentita dire qualche sera fa in televisione che avete chiuso i ristoranti per decongestionare i mezzi pubblici. Dico me lo pensa veramente? Guardi che i mezzi pubblici non sono pieni all'uscita dei ristoranti, sono pieni all'entrata delle scuole e degli uffici. Ma questo immagino che lo sappia anche lei. Crede che sia per questo che poi la gente ha difficoltà a credervi. Anche sui ristori avete mentito. Parlavate di un rimborso pari al 100-200% del calo del fatturato e poi ci siamo ritrovati con un ristoro pari al 100-200% del bonus previsto nel decreto rilancio. Mi consenta di dire che non basta. Perché uno Stato giusto, se diminuisce o a zero il guadagno di una azienda per decreto, poi non si presenta con un bonus, ma interviene sui costi fissi di quell'attività. Il personale, gli affitti, i mutui, i prestiti, le tasse, le utenze. Come si pagano quando uno non ha entrato? Presidente Conte, col vostro bonus. Io penso che sia per questo che la gente è esasperata. Scendono in piazza. E Presidente Conte scendono in piazza perché vogliono lavorare. Chiedono lavoro. Forse non li capite per questo, perché non chiedono il reddito di cittadinanza. Chiedono lavoro. E voi avete la responsabilità di ascoltare il disagio di quella gente, come siamo nel nostro piccolo facendo noi di Fratelli d'Italia con un presidio permanente a pochi passi da qui. Non vi trincerate dietro quei quattro idioti violenti che si infilano nelle manifestazioni finendo per farvi un favore. Perché la realtà è molto più ampia. E non vi trincerate, consiglio anche prudenza, sul fatto delle regie criminali di queste manifestazioni perché semmai siete voi che rischiate di consegnare quelle attività alla criminalità organizzata mettendole in ginocchio. Non vi trincerate. Allora avete, voi lo sapete perché avete definito sacrificabili quelle attività, ma l'unica attività veramente sacrificabile finora è stata la vostra. E la ragione per la quale avete fatto tutti questi errori e concludo è che al centro della vostra attenzione c'era il vostro ego, la vostra popolarità. Provi a guardare fuori dalla finestra invece che lo specchio, Presidente Conte, e scoprirà la realtà di una nazione in ginocchio che non si può più permettere la vostra spocchia. Dovete scendere dal piedistallo e guardare in faccia a quella gente che vi sta chiedendo aiuto.